ricerca del vestitino rosso ciao a tutti un attimino un attimino un attimino le disturbo un attimo ciao tu sembri Simona Ventura ecco voi Simona Ventura la sosia ciao ciao Simona chiama davvero Simona ah madonna ma deve essere notata volevamo sapere da te sosia prima di tutto da dove vieni? Ostiano Ostiano provincia di Cremona aspetta è tanta strada però no dai 40 minuti siete divertite a venire qua? sì molto come va il vestito rosso? così estate è bello poi è carico, passione giusto ma cosa sei venuta a fare qua? io sono venuta a festeggiare traguardi importanti di tre mie amiche traguardi? cioè? cioè 40 anni per due e 30 per una 40 cosa vuoi dire? che due compiono 40 anni e una 30 loro sono loro andiamo a conoscere andiamo ce le presenti tu? sì ciao ragazze ciao a tutte venite qua belle donne ragazze la mia cizia voglio che vi sentiate ciao io mi sono amore traguardi importanti 30 30 anni 30 anni ok 30 anni tu invece quanti anni compi? ma che te gli anni? 40 40 anni attenzione pericolosa grazie mille poi tu invece quanti anni compi? 40 40 anni io non compio gli anni lei non compio gli anni che figuraccia anche tu da Cremona? da Ostiano? da Ostiano ok qui è Ostiano salutiamo a casa gli amici ciao stasera ci divertiamo con Rosso poi madonna aiutateci scusate mi sono ammizionata saluti dalla DJ Fena questo è il convento di Ronato Del Garda venite qua perché ci si diverte tanto